Fratelli nel Signore, questa sera voglio parlarvi di un particolare argomento che dall'inizio del secolo scorso, diciamo, ha avuto una certa importanza. Il titolo è lo Spirito Santo può abitare in un credente con una certa misura? Questa è la questione a cui vogliamo rispondere oggi. Cosa è avvenuto all'inizio del secolo scorso? Che c'è stato il risveglio pentecostale, no? C'è stato un risveglio quando il Signore ha cominciato a battezzare con lo Spirito Santo, a riempire di Spirito Santo e la manifestazione di questo riempimento di Spirito era il parlare in altre lingue. Cosa è successo? Questo ha creato grande discussione in ambito evangelico. Perché? Perché, diciamo, quelli che non erano battezzati con lo Spirito Santo, come le Chiese dei Fratelli, Battisti, Riformati, insomma, una certa cerchia di evangelici che, benché credenti, eh, io non voglio togliere, annullare questo, perché benché credenti, cioè, rigenerati spiritualmente, nati da Dio, non credevano che lo Spirito Santo potesse poi esserne data in un'altra misura, in una pienezza, con un riempimento, e questo potesse traboccare parlando in altre lingue. Dall'altra parte, dall'altra parte i pentecostali come reagivano contro i Battisti, i Riformati, dicevano, sbagliando qui, eh, ve lo dico perché sbagliavano, dicendo, e oggi lo dimostreremo, dicendo a questi fratelli che siccome non erano battezzati con lo Spirito Santo non avevano lo Spirito, lo Spirito Santo non abitava in loro. E anche questo, questo era, era sbagliato. Quindi, diciamo che in questo scontro erravano tutte e due le parti. Una parte che diceva all'altro che lo Spirito Santo non poteva, non esisteva più un battesimo con lo Spirito come quello ai tempi degli Atti degli Apostoli, con la manifestazione delle lingue, e dall'altra è pentecostale che dicevano che chi non parlava in altra lingua non aveva lo Spirito. Ecco, anche questo è una frase sbagliata biblicamente. Ed ora andremo con lo studio di oggi, volevo appunto, con la predicazione di oggi, con i passaggi biblici che tratteremo oggi, volevo appunto spiegarvi, spiegarvi questo argomento, perché tutte e due le parti, diciamo, sbagliavano. E soprattutto, soprattutto oggi voglio dimostrarvi che lo Spirito Santo può essere dato con una certa misura, che può nel tempo crescere in un credente, in un fratello, in un cristiano, in un credente, può crescere fino a ricevere il riempimento completo e che trabocca nel parlare poi in altre lingue. E andiamo a leggere Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo queste parole, la testimonianza di Giovanni appunto che parla di Gesù. E di Gesù dice queste parole. Dobbiamo andare al capitolo 3 di Giovanni, capitolo 3 al versetto 34. Poiché colui che Dio ha mandato, qui sta parlando di Gesù, eh? Colui che Dio, quindi Dio Padre ha mandato, proferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo Spirito con misura. Quando Gesù è stato unto di Spirito Santo, non gli è stata data una misura, cioè una parte soltanto, ma Gesù è stato unto pienamente di Spirito Santo, è stato riempito di Spirito Santo, anche se non ha parlato in altre lingue. Ecco, Gesù è stato riempito di Spirito Santo, come anche Giovanni Battista era ripieno di Spirito Santo fin dal seno materno, ma non hanno né Gesù né Giovanni Battista, la scrittura non ci dice in maniera assoluta che hanno parlato in lingue. Quindi noi dobbiamo dire quello che è scritto, dove la scrittura tace, quindi Gesù non parlò in altre lingue e neanche Giovanni Battista. Però questo passaggio biblico che c'è scritto in Giovanni ci fa sorgere una domanda, capite? Se Gesù non gli è stato dato con misura lo Spirito Santo, ci dobbiamo domandare, ma ci possono essere dei fratelli che possono avere ricevuto una certa misura di Spirito Santo? Una misura diversa? L'uno magari dall'altro? Perché vedete, lo Spirito Santo abita contemporaneamente in tutti i credenti, quelli veramente nati di nuovo. Ma nello stesso tempo può abitare nei credenti anche con una misura diversa, una misura può essere diversa. Ecco perché si parla di riempire, di pienezza di Spirito Santo, di riempire di Spirito. Perché ci può essere, e qui anche in Giovanni 3, come abbiamo letto al versetto 34, abbiamo visto che si può avere lo Spirito con una certa misura. Così come c'è anche una misura, ma nulla di strano, perché c'è una misura di fede anche, c'è anche una misura di fede, una misura di sapienza. Cioè, secondo quello che Dio ha stabilito di dare al credente la sua misura, la misura che Dio in quel momento ha stabilito, che può nel tempo anche crescere, che può arrivare fino al riempimento. Una volta che si è riempiti di Spirito Santo, che si manifesta con il parlare in altre lingue, chi è battezzato quindi con lo Spirito Santo che, diciamo, ha ricevuto il riempimento di Spirito Santo, e con la manifestazione di parlare in altre lingue, questo fratello, questi fratelli, devono mantenere questa unzione. Quindi il loro sforzo sarà di mantenere quella unzione. Mentre gli altri, che ancora non hanno il riempimento, devono pregare Dio, sforzarsi di, diciamo, di sforzarsi nel senso di santificarsi e di pregare del continuo ai Dio finché vengano battezzati con lo Spirito Santo, perché non è una cosa facoltativa, non è una cosa di secondaria importanza, ma è molto importante. È una promessa che Dio ha fatto all'uomo, al credente, quindi bisogna insistere. Però attenzione, io sto parlando di un battesimo con lo Spirito Santo, di quello biblico, di quello che viene da Dio, perché purtroppo se noi guardiamo le denominazioni, guardiamo molte comunità, alcuni si sono inventati questo parlare in altre lingue. Perché? Perché se lo sono inventato? Da una parte per non deludere il pastore, dall'altra per non sentirsi come dei credenti di serie B. E sì, perché se uno dice ah, non ha ricevuto ancora il battesimo con lo Spirito Santo, in queste comunità ti guardano strano, ti guardano strano, perché tu, come se tu non fossi dei loro, capite? Io parlo dell'ambiente pentecostale adesso. Ma noi sappiamo che Dio battezza con lo Spirito Santo, e certo dobbiamo credere, dobbiamo domandare, questo è chiaro. Però poi Dio battezza quando e come vuole lui. Infatti i discepoli furono battezzati la prima volta il giorno della Pentecoste, cioè il Dio aveva stabilito, per rendere una certa testimonianza a tutti i giudei religiosi che si erano radunati a Gerusalemme, aveva stabilito di battezzare con lo Spirito Santo quel giorno, il giorno della Pentecoste. Quindi ciò è stato fatto quando Dio ha stabilito, non quando erano pronti, non quando erano degni, perché noi veramente dei doni di Dio non c'è nessun uomo che è mai degno di riceverlo, e quindi quello che si riceve lo si riceve gratuitamente e lo si riceve non per meriti personali, quindi lo si riceve per fede, perché lo si domanda e perché avviene il momento in cui c'è la volontà di Dio di donare tali cose, tali doni. Quindi abbiamo letto che c'è la possibilità di un credente, cioè che lo Spirito Santo possa abitare in un credente in una certa misura. Ora passiamo a leggere le scritture, leggeremo le scritture sia del Vecchio Patto che del Nuovo, perché per quanto riguarda lo Spirito Santo non c'è differenza, lo so che taluni insegnano che lo Spirito Santo nel Vecchio Patto era dato diversamente dal Nuovo, ma in verità non è così, cioè il credente che c'era nel Vecchio Patto e riceveva lo Spirito Santo da Dio è la stessa cosa come quello che riceve oggi, solamente che c'è la fede in Dio che avevano loro e la fede nel Messia che doveva ancora venire, capite? La differenza sta nel fatto che oggi noi abbiamo creduto, crediamo che il Messia è già venuto, che è morto per i nostri peccati, ecco. Quindi ci sono delle differenze, poi la porta della salvezza è stata aperta anche a noi gentili. Quindi mentre un tempo diciamo che la salvezza era quasi del tutto riservata ai giudei, ai giudei secondo la carne. mentre oggi dei due popoli ne è stato fatto uno solo, quindi la salvezza è stata aperta anche a noi gentili e di conseguenza anche i gentili ricevono lo Spirito Santo, così nella stessa maniera come lo ricevono i giudei, i giudei di nascita. Quindi tra il Vecchio e il Nuovo Patto, noi li citiamo tutti e due, ma non cambia nulla, infatti vedendo i passi si comprende che anche per questo aspetto che tratteremo oggi non c'è nessuna differenza tra il Vecchio e il Nuovo Patto. Adesso leggiamo, e lo so perché io vi faccio questa premessa, perché inserisco anche queste parole in questa mia premessa, perché? Perché per insegnare delle falsità purtroppo si sono dovuti inventare degli spezzettamenti, dei cambiamenti, il Vecchio Patto è diverso dal Nuovo, insomma hanno dovuto inventarsi un po' di cose, tra cui anche questa, che lo Spirito Santo andava e veniva nel Vecchio Testamento, invece non è così. Quando lo Spirito Santo era dato nel Vecchio Testamento, era dato, rimaneva lì, come lo è oggi? Non è che prende parte, se ne va, poi torna? Perché nel momento in cui lo Spirito Santo esce, quello diventa carnale, quello poi che cosa fa? Un profeta che lo Spirito Santo si allontanava da lui, diventava un uomo di carne e polvere, sottoposto alla natura corrotta come lo sono tutti gli uomini, senza l'aiuto dello Spirito Santo, ma è chiaro che commetteva le mondizie più incredibili, anche nel Vecchio Patto. Quindi non è possibile, quando i credenti del Vecchio Patto e anche del Nuovo ricevevano lo Spirito Santo, quando credevano ricevevano lo Spirito Santo e questo Spirito Santo rimaneva in una certa misura dentro di loro, non è che se ne usciva e poi tornava, è la stessa cosa oggi. Ora vediamo il riferimento alla misura, dobbiamo dimostrare quindi con i passi che citeremo che lo Spirito Santo può abitare nel credente anche in una certa misura, che può non essere quella del riempimento con la manifestazione delle lingue, ma possono esserci diverse misure. Ora vediamo com'è possibile che lo Spirito Santo possa essere dato con una certa misura. Andiamo a leggere, nel Libro dei Numeri, leggiamo un fatto che accadde a Mosè, al popolo di Israele, quando era nel deserto. Quando era nel deserto, praticamente, capitolo 11, l'argomento inizia al versetto 4, poi versetto 4, poi si dovrà leggere il versetto 16, dove c'è la promessa di Dio, 16 e 17, poi l'adempimento lo troviamo al versetto 24. Praticamente il contesto è questo. Il popolo di Israele era nel deserto, mangiava solo manna, perché Dio gli mandava ogni mattina la manna, e il popolo di Israele, diciamo, ogni mattina mangiava della manna che Dio gli mandava. Gli la mandava per sei giorni alla settimana. Il venerdì, che è il sabato, non scendeva la manna, ma era un giorno di riposo, e non dovevano neanche andare a raccogliere. Il venerdì scendeva una razione doppia di manna, quindi si poteva raccogliere una razione doppia. Cosa è successo nel deserto? Che c'era una cozzaglia di gente, al versetto 11,4 c'è scritto, e la cozzaglia di gente raccoglieticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza, e anche figlioli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire, chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto per nulla, dei cocomeri, dei poponi, dei porri, delle cipolle e degli agli. Insomma, il popolo di Israele, pensando a quello che mangiava quando era schiavo in Egitto, gli è venuta voglia perché è sospinto da quella cozzaglia di gente che, diciamo, seguiva il popolo di Israele nel deserto, e fu, diciamo, li fece cadere in questo mormorio, fece cadere in questa concupiscenza dei cibi e di quelle cose che aveva quando era schiavo in Egitto. Ma, vedete, Dio metteva alla prova il suo popolo di Israele nel deserto, doveva solo avere pazienza e aspettare al suo tempo, così come Dio magari ci mette in ristrettezze per metterci alla prova. Comunque, il popolo di Israele fu messa alla prova e il popolo di Israele peccò. 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 E Mosè, Mosè, al versetto 10 è scritto, E Mosè udì il popolo che piagnucolava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. L'ira dell'Eterno si è accese gravemente, e la cosa dispiacque anche a Mosè. Cioè, anche Mosè era dispiaciuto, anche Mosè, che era il condottiero, il pastore di Israele, colui che conduceva Israele nel deserto, dopo disse che era troppo pesante per lui portare quel popolo, che portare il popolo da solo per lui era troppo pesante. Infatti, al versetto 14 dice, Mosè dice, Io non posso da me solo portare tutto questo popolo, è un peso troppo grave per me. E se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti prego, uccidimi, se ho trovato grazie agli occhi tuoi, e che io non vegga la mia sventura. E l'Eterno disse a Mosè, Radunami 70 uomini degli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani, del popolo e come aventi autorità sovresso. Conducili alla tenda di convegno e vi si presentino con te. Io scenderò e parlerò qui vitecco. Prenderò dello spirito che è su te e lo metterò su loro. Perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Quindi qui Dio dice a Mosè di stabilire, di portare 70 uomini, 70 anziani del popolo di Israele che lo avrebbero aiutato a portare il peso del popolo, ad amministrare la giustizia. Insomma, non si doveva così prendere tutto il peso da solo Mosè. Tra le cose che Dio gli dice a Mosè, guardate bene, dice questo. Prenderò dello spirito che è su te e lo metterò su loro. Vedete? Cioè, il Dio promette di prendere una misura di spirito santo, perché non sta parlando dello spirito di cui Mosè è proprietario. Perché voi sapete che ogni uomo è costituito da corpo, anima e spirito. E questo è personale. A questo ce l'ha ogni uomo. Lì il Dio sta parlando dello spirito santo, di una misura di spirito santo che era su Mosè. Quindi Dio ha detto che una parte di questo spirito che era su Mosè lo avrebbe preso e lo avrebbe riversato dentro i cuori, dentro le anime dei settanta anziani. Quindi immaginatevi quanta misura di spirito santo c'era su Mosè. E questo ci fa capire come lo spirito santo può abitare in una certa misura, di cui può aumentare e diminuire. Vedete? Il Dio prende una misura da Mosè e la versa sui settanta anziani. Senza privarne di un'altra misura Mosè. È chiaro che Mosè non sarebbe rimasto senza avere una misura di spirito lui. Però una parte, vedete, prenderò dello spirito una certa quantità, ecco. Una certa misura. L'avrebbe presa e Dio l'avrebbe riversata sui settanta anziani. Ed ora andiamo a vedere cosa succede quando ciò avvenne. E lo leggiamo al versetto 24. Al versetto 24 leggiamo. Mosè dunque uscì e riferì al popolo le parole dell'Eterno e radunò settanta uomini degli anziani del popolo e li pose intorno alla tenda. E l'Eterno scese nella nuvola e gli parlò, prese dello spirito che era su lui e lo mise sui settanta anziani. E avvenne che quando lo spirito si fu posato su loro quelli profetizzarono ma non continuarono. Vedete? Qui successe una cosa simile quando avviene il battesimo con lo Spirito Santo. Praticamente lo Spirito Santo che Dio prese da Mosè e lo posò su questi settanta anziani questi cominciarono a profetizzare. Vedete? Insieme a questa misura di spirito che fu versata su di loro cominciarono anche a profetizzare. Quindi ci fu anche una manifestazione esteriore che si vide, che tutti udirono quando lo Spirito Santo scese su loro sui settanta anziani. Cominciarono a profetizzare. Qui dice ma non continuarono. E' chiaro, quello servì solo in quel momento per il popolo di Israele per quei settanta anziani e anche per Mosè. E Dio fece in questa maniera. Questo passo biblico ci interessa l'abbiamo preso per considerare che Dio prese una misura dello Spirito Santo che era su Mosè e lo versò sui settanta anziani. Lo pose, lo fece scendere sui settanta anziani. Però vedete come Dio ha deciso di prenderlo da Mosè e farlo posare sui settanta anziani. Questa ci fa comprendere come lo Spirito Santo può albergare nei cuori degli uomini in una certa misura. Ma ancora non c'è solo questo. Adesso leggiamo anche, andiamo a leggere andiamo a leggere anche il Libro dei Re dove si parla di Eliseo Eliseo e di Elia. Al capitolo 2 al capitolo 2 di Seconda Re leggiamo queste parole. Praticamente Dio aveva fatto sapere a Elia che lo avrebbe preso nel cielo senza fargli vedere la morte. Questa cosa fu detta anche a Eliseo Eliseo lo sapeva lo sapevano anche gli altri profeti i discepoli dei profeti. E a capitolo 2 versetto 9 leggiamo leggiamo quello che è il discorso che avvenne tra Elia ed Eliseo Eliseo che doveva praticamente era stato unto da Elia in sua sostituzione. Al versetto 9 leggiamo 2 9 di Seconda Re E passati che furono Elia disse ad Eliseo chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto. Eliseo rispose ti prego sia mi data una parte doppia del tuo spirito. Elia disse tu domandi una cosa difficile non di meno se tu mi vedi quando io ti sarò rapito ti sarà dato quello che chiedi ma se non mi vedi non ti sarà dato. Quindi in questo discorso praticamente Elia gli dice a Eliseo di chiedergli quello che voleva prima che lui se ne andasse. Eliseo cosa gli chiese? Cosa gli chiese Eliseo a Elia? Gli chiese una parte doppia dello spirito suo qui sta parlando dello spirito santo una parte doppia della misura di spirito che era su Elia la chiese Eliseo su di sé Elia non ha risposto in maniera da dire che quella richiesta fosse sbagliata perché taluni dicono dicono ma lo spirito santo basta che alberga nel cuore di un uomo perché lo spirito santo è una persona entra ad abitare in una persona e così ci abita non può essere suddiviso in misura dicono loro però ma le scritture ci dicono diversamente come abbiamo visto in Gesù in Giovanni quando dice che Gesù non ha ricevuto lo spirito con misura poi anche i 70 anziani fu preso dello spirito che era su Mosè fu riversato fu posato sui 70 anziani e fu preso da Mosè quindi vedete tutte cose che indicano che lo spirito santo può abitare in un credente in una certa misura e qui a conferma ancora di questo c'è scritto che Eliseo chiese ad Elia di ricevere una parte doppia dello spirito che era su Elia Elia non gli dice che stava sbagliando perché altrimenti Elia se la richiesta fosse stata sbagliata non gli avrebbe risposto poi come gli ha risposto perché Elia gli ha detto Elia gli dice tu domandi una cosa difficile non di meno se tu mi vedi quando io ti sarò rapito ti sarà dato quello che chiedi vedete Elia conferma le parole di Eliseo gli dice ti sarà dato quello che tu chiedi se no avrebbe dovuto correggere se la richiesta è sbagliata Elia non poteva confermare e dire ti sarà dato quello che tu richiedi l'unica condizione che ha posto Elia qui era quella che Eliseo doveva vederlo nel momento in cui Elia sarebbe salito in cielo Eliseo poi vide cioè lo vide e ricevette appunto quello che aveva chiesto infatti alla pari di Elia prese il mantello di Elia batte subito il Giordano invocando il Dio dice dove è l'Eterno l'Iddio d'Elia e col mantello batte il Giordano e il Giordano si ritirò e passò come sull'asciutto subito vedete si è manifestata la potenza di Dio per mezzo del suo Spirito Santo è quello che ha compiuto Elia ha compiuto anche Eliseo in questo caso ma vedete dunque che Eliseo ha fatto questa richiesta ha chiesto una parte doppia di Spirito Santo che era su di Elia che era su di lui e quindi quindi anche questo passaggio biblico ci fa capire che lo Spirito Santo poteva essere in una certa misura sui credenti su una persona che ha creduto in Dio ma ora vediamo adesso andiamo invece nel Nuovo Testamento apriamo le scritture di nuovo nel Vangelo di Giovanni perché adesso passiamo a quello che riguarda il Nuovo il Nuovo Testamento ora dobbiamo andare al capitolo 20 al capitolo 20 di Giovanni al versetto 22 questo forse sarà un passaggio più conosciuto dopo che Gesù risuscitò si presentò ai suoi discepoli e disse pace a voi come il Padre mi ha mandato anche io mando voi e detto questo soffiò su loro e disse ricevete lo Spirito Santo quindi fratelli vedete qui c'è un altro passaggio biblico dove c'è scritto che fu soffiato qualcosa su un uomo vi ricordate quando Dio creò Adamo lo creò dalla terra dalla polvere della terra e soffiò su di lui soffiò su di lui e entrò in lui uno spirito di vita divenne un'anima vivente quindi accadde qualcosa entrò in lui la vita cominciò a vivere dal momento in cui l'Eterno soffiò su Adamo qui c'è scritto ricevete lo Spirito Santo ma badate bene questo avvenne quando Gesù era risuscitato ma questi i discepoli suoi avevano già creduto erano già discepoli di Cristo avevano già creduto perché in altri punti si capisce che avevano già ricevuto quindi una una misura di Spirito Santo quando Gesù dice a Pietro non è un uomo che ti ha rivelato questo ma lo Spirito Santo gliel'ha potuto rivelare perché lo Spirito Santo albergava in Pietro una misura di Spirito Santo albergava in Pietro così come albergava anche in tutti gli altri in tutti gli altri discepoli di Gesù che avevano veramente creduto perché se non si è creduto se non si ha lo Spirito Santo non si può essere di Cristo cioè per essere di Cristo bisogna obbligatoriamente avere dentro di sé lo Spirito Santo così come scritto in Romani se noi leggiamo in Romani Romani al capitolo 8 capitolo 8 al versetto 9 or voi non siete nella carne ma nello Spirito seppur lo Spirito di Dio abita in voi ma se uno non ha lo Spirito di Cristo egli non è di lui e se Cristo è in voi ben è il corpo morto a cagione del peccato ma lo Spirito è vita a cagione della giustizia quindi vedete qui dice dice che lo Spirito seppur lo Spirito di Dio abita in voi ma se uno non ha lo Spirito di Cristo egli non è di lui quindi i discepoli quelli che Gesù ha maestrato ha guidato infatti dice voi siete netti a motivo della parola che io vi ho annunziato quindi erano netti erano puri c'era stata una purificazione una rigenerazione in loro avevano creduto in Cristo e in colui che lo ha mandato e quindi chi ha permesso che questi discepoli credessero lo ha permesso lo Spirito Santo che è entrato in loro per per fargli compungerli quanto al loro peccato e per quanto riguarda la giustizia gli ha messo in loro quella fede che prima non avevano perché non c'è nessuna fede naturale non c'è nessuna bontà naturale nell'uomo gli uomini sono tutti corrotti quelli che sono salvati i credenti che vengono salvati vengono salvati perché è lo Spirito Santo che opera nei loro cuori per fargli credere è lo Spirito Santo che opera è lo Spirito Santo che rigenera spiritualmente infatti lo leggiamo anche qui più avanti sempre in Romani c'è un passo che ci fa capire al versetto 15 8 15 di Romani poiché voi non avete ricevuto lo Spirito di servitù per ricadere nella paura ma avete ricevuto lo Spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre lo Spirito stesso attesta insieme col nostro Spirito che siamo figlioli di Dio e se siamo figlioli siamo anche eredi eredi di Dio e coeredi di Cristo e seppur soffriamo con Lui affinché siamo anche glorificati con Lui vedete basta che lo Spirito Santo anche se non nella sua pienezza anche se non riempite di Spirito Santo ma basta che lo Spirito Santo alla rigenerazione spirituale alla nuova nascita venga ad albergare nel cuore degli uomini ecco che lo Spirito Santo insieme allo Spirito dell'uomo fa gridare Abba Padre ci fa gridare ci ha fatto gridare noi quando siamo nati di nuovo abbiamo cominciato a vedere il Dio come un Padre misericordioso e questo è dovuto al fatto che lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di noi è per questo che noi abbiamo cominciato a vedere il Dio come il nostro Padre Celeste perché è lo Spirito Santo dentro di noi insieme al nostro Spirito che ci fa gridare Abba Padre quindi siamo diventati figlioli e quindi siamo eredi della vita eterna eredi da quel momento della rigenerazione e questo è potuto essere solamente nel momento in cui una misura dello Spirito di Dio è entrato ad abitare nel credente una misura che ha permesso la rigenerazione quindi i discepoli quando Gesù risuscitò e soffiò su di loro una misura di Spirito già ce l'avevano perché già erano discepoli di Cristo avevano già creduto in Cristo Gesù soffiò su di loro e un'altra misura di Spirito Santo entrò nel loro cuore ad abitare dentro di loro ma non solo sempre gli stessi discepoli adesso andiamo a leggere l'esperienza la prima la prima dispensazione del battesimo con lo Spirito Santo in Atti 2 4 tra quelle persone i circa 120 c'erano anche quelli su cui Gesù aveva già soffiato lo Spirito Santo che erano già stati rigenerati dallo Spirito Santo e a questi vedete andiamo in Atti 2 al versetto 4 ecco che cosa ricevettero sempre tra questi circa 120 c'erano anche i discepoli su cui Gesù apparve dopo che risuscitò e soffiò su di loro e qui capitolo 2 versetto 4 leggiamo e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi quindi vedete non solo Gesù soffiò su circa sui discepoli ma venuto il giorno della Pentecoste come Gesù aveva promesso disse voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi qui si sta riferendo al riempimento completo dello Spirito Santo a ricevere diciamo tutta quella potenza il riempimento praticamente non più sarebbe stato presente loro una certa misura di Spirito ma sarebbero stati riempiti di Spirito Santo questo riempimento quando discese su di loro sui circa 120 lo Spirito Santo ecco che traboccarono lo Spirito traboccò in loro che si diciamo si manifestò con il parlare in altre lingue e il parlare in altre lingue era un parlare in lingue umane però non angeliche che praticamente qualcuno per nascondere la traduzione di quelle lingue dice che sono tutte quasi tutte lingue angeliche non è così la maggior parte anzi se non tutte le lingue che si parlano in lingue straniere di conseguenza il battesimo con lo Spirito Santo e anche il dono di diversità delle lingue riguardano lingue umane perché qui l'esempio parlarono i circa 120 parlano tante lingue ma tutte umane infatti al versetto al versetto 8 2.8 leggiamo e com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio noi parti medi e lamiti abitanti della Mesopotamia della Giudea della Cappadocia del Ponto dell'Asia della Frigia della Panfilia dell'Egitto e delle parti della Libia Cirenaica e avventizi romani tanto giudei che proseliti cretesi ed arabi li udiamo parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue innanzitutto parlare in lingue non è evangelizzare e poi le lingue che furono parlate furono parlate le lingue di quasi tutte le nazioni conosciute di quel tempo quindi le lingue umane lingue umane e sono il parlare in altre lingue e un parlare rivolto a Dio questo è importante è importante che vi ricordiate queste cose quindi avvenne il giorno della Pentecoste il giorno della Pentecoste che furono riempiti di Spirito Santo vedete quindi le persone tra questi c'erano quelli tutti discepoli quindi che avevano già una misura di Spirito Santo ma ma ricevettero il giorno della Pentecoste ricevettero il riempimento di Spirito cioè furono riempiti fino a traboccare è come un vaso che si riempie e poi comincia a traboccare capite il vaso può essere può essere una misura può arrivare a metà può superare la metà e può anche traboccare capite questo è diciamo quello che può avvenire come misura di Spirito Santo che il Signore può dare ai credenti quando si riceve la pienezza quando si riceve il riempimento di Spirito Santo si trabocca quindi il vaso è completamente pieno e quindi trabocca e si manifesta questo traboccare si manifesta appunto con il parlare in altre lingue come lo Spirito dà loro di esprimersi quindi questo è per quanto riguarda lo Spirito che viene dato in una certa misura ai credenti ora ora passiamo a vedere dei passaggi biblici perché se noi abbiamo ci sono dei fratelli quindi possono esserci dei credenti che hanno uno Spirito con una certa misura e altri che sono stati riempiti di Spirito quindi abbiamo queste due categorie di persone però attenzione non ci sono credenti di serie A di serie B o che sono superiori quegli altri che sono superiori quelli che sono riempiti da quelli che ne hanno una certa misura intanto se una superiorità c'è se ci fosse lo devono dimostrare con la loro condotta con la sapienza con l'intelligenza e con le buone opere capite in questo senso allora sì ci potrebbe essere una differenza perché quelli che sono riempiti di potenze dello Spirito Santo dovrebbero essere più efficaci nel compiere il servizio all'interno della Chiesa dovrebbero continuamente cacciare demoni dovrebbero anche diciamo fare tante altre opere potenti e gloriose in mezzo alla Chiesa quindi se questo avviene allora la differenza si nota ma se non avviene questo fratelli e sorelle vuol dire che non c'è poi tutta questa differenza o quelli che sono stati riempiti di Spirito Santo o non hanno ricevuto nulla o se no non sono la loro misura non è molto distante da quella degli altri fratelli e delle altre sorelle comunque volevo cittarvi dei passaggi adesso dei passaggi biblici dove per farvi capire che le scritture insegnano che anche quelli che non sono stati riempiti di Spirito Santo perché di solito vengono ricordati quelli che quelli che erano ripieni di Spirito Santo no? noi leggiamo le guarigioni noi leggiamo leggiamo che hanno cacciato i demoni gli apostoli dopo essere stati riempiti di Spirito Santo però ci sono delle testimonianze ci sono delle opere che sono descritte nella parola di Dio che sono state fatte dai discepoli anche prima di essere di essere battezzati con lo Spirito Santo che adesso andiamo a leggere ad esempio Gesù ha mandato i dodici questo lo leggiamo in Marco capitolo 6 al versetto 7 Gesù manda i dodici e vediamo cosa sta scritto poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due a due e dette loro potestà sugli spiriti immondi e comandò loro di non prendere nulla per viaggio se non un bastone soltanto non pane non sacca non danaro nella cintura ma di calzarsi di sandali e di non portare tunica di ricambio e diceva loro dovunque sarete entrati in una casa trattenetevi quivi finché non ve ne andiate di là e se in qualche luogo non vi ricevono né vi ascoltano andandovene di là scotetevi la polvere di sotto ai piedi e ciò serva loro di testimonianza e partiti predicavano che la gente si ravvedesse cacciavano molti demoni ungevano d'olio molti infermi e li guarivano voglio farvi notare che furono mandati dodici i demoni possono essere cacciati solamente per la potenza dello spirito santo non possono essere cacciati in altra maniera è lo spirito di Dio che li caccia quindi chi prega per cacciare i demoni deve pregare perché in sé ha dentro di sé lo spirito di Dio che caccia via poi i demoni quindi i dodici non erano riempiti di spirito santo ma erano avevano ricevuto sì l'autorità da Dio avevano ricevuto da Gesù l'autorità di fare sono stati mandati da Gesù vedete anche se non erano riempiti di spirito santo oppure hanno compiuto delle opere potenti hanno compiuto l'opera che Gesù li ha mandati a fare vedete quindi qui hanno hanno cacciato i demoni e anche guarito degli infermi quindi questo era l'incarico di annunziare l'evangelo cacciare i demoni e guarire gli infermi quello che Gesù diede loro l'incarico che Gesù diede loro di fare lo fecero anche se ancora non erano riempiti di spirito santo quindi vedete quindi quando Dio Gesù Dio può dare degli incarichi anche a coloro che non hanno ricevuto ancora il riempimento di spirito santo e devono attenersi all'incarico che Dio gli ha dato da fare e lo devono fare questo non voglio dire che non si deve pregare per ricevere il battesimo con lo spirito santo perché noi crediamo e bisogna domandare chi non l'ha ancora ricevuto deve pregare incessantemente affinché lo riceva però non è detto che ancora se uno non l'ha ricevuto non è detto che non può fare nulla cioè deve fare ognuno di noi deve fare quello che Dio viene chiamato a fare da Dio indipendentemente se è riempito di spirito oppure no dobbiamo lavorare tutti perché una misura di spirito già è sufficiente già è sufficiente avere lo spirito dentro di noi l'importante è essere credenti poi certamente se abbiamo una misura di potenza è chiaro che Dio ci farà fare quello che sarà possibile che noi facciamo non ci darà di fare qualcosa che non siamo in grado di fare perché lui ci dà di fare qualcosa e poi ci mette in grado lui di farlo è chiaro quindi però quello che voglio farvi notare è che vedete che non è che solo quelli che sono riempiti di spirito santo possono compiere determinate opere ma le fanno anche quelli che determinate opere sono chiamati da Dio a farle anche quelli che non sono ancora riempiti di spirito santo poi oltre i dodici furono mandati anche i settanta questo andiamo a leggere in Lucca in Lucca capitolo 10 al capitolo 10 leggiamo queste parole 10 1 or dopo queste cose il Signore designò altri settanta discepoli e li mandò a due a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare guardate bene perché uno può dire vabbè ma prima i dodici erano i dodici stabiliti da Dio come apostoli va bene questo anche accettiamo anche questa questa sollevazione di questa obiezione però guardate qui furono mandati dopo da Gesù i settanta e ancora non erano riempiti di Spirito Santo cosa fecero questi settanta e lo leggiamo al versetto 17 or i settanta tornarono con allegrezza dicendo Signore anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome ed egli disse loro io mirava Satana cadere dal cielo a guisa di folgore ecco io vi ho dato la potestà di calcar serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male vedete a quei settanta gli era stata data la potestà con quella misura di Spirito ancora non riempiti ma gli era stata data questa potestà di cacciare i demoni infatti erano contenti che pregavano e cacciavano i demoni infatti Gesù gliel'ha detto vi è stata data la potestà di calcar scorpioni e tutta la potenza del nemico ma perché anche se lo Spirito Santo se Cristo Gesù alberga nei nostri cuori anche se uno non è ancora riempito di Spirito Santo ma in lui abita lo Spirito di Dio quello è sufficiente da vincere già il nemico capite è già una misura vincente nei confronti del nemico il nemico non può fargli nulla se si mantiene fedele a Dio se si mantiene fedele alla sua parola al mandato che Dio gli ha dato quindi quindi fratelli vedete come diciamo la cosa importante la cosa più importante è la nuova nascita è chiaro senza quella non si riceve lo Spirito di Dio dentro di sé e quindi non si può fare nulla dopo l'esperienza della nuova nascita è chiaro che la più importante è chiaro che è il battesimo con lo Spirito Santo questo sì l'esperienza da ricevere più importante perché col battesimo con lo Spirito Santo si riceve quella misura in più che permette al credente di fare delle cose straordinarie eccezionali è chiaro ancora più straordinarie di quelle che compiono i credenti che hanno solo una certa misura di Spirito Santo però chi è riempito di potenza e di Spirito Santo ne fa ancora di più è chiaro però le fanno anche quelli hanno una potestà hanno un'autorità hanno una potenza anche quelli che hanno solo una misura di Spirito ancora e sono in attesa di ricevere il riempimento perché così ci dicono vedete le scritture ce lo dicono le scritture ce lo stanno dicendo vedete prima i 12 poi i 70 ora andiamo avanti con passaggi della scrittura dove hanno operato i credenti senza essere ancora battezzati con lo Spirito Santo se andiamo al capitolo 1 di Atti degli Apostoli vediamo dobbiamo leggere sì tutti questi versetti se è utile leggerli quindi a capitolo 1 versetto 15 praticamente viene scelto il tredicesimo Apostolo il sostituto quello da unire da aggiungere agli undici perché Giuda era andata al suo luogo e nella scelta del dodicesimo Apostolo praticamente né Pietro né gli altri discepoli erano ancora riempiti di Spirito Santo però vedete anche in questo operavano già dentro la Chiesa operavano mancava dovevano determinare un Apostolo e hanno operato per determinarlo c'è stata la predica di Pietro che ha spiegato cosa era successo a Giuda hanno pregato e hanno scelto è stato il Dio ha scelto il sostituto l'Apostolo sostituto di Giuda quindi vedete tutto questo è stato compiuto perché è stato compiuto anche se non c'era non erano ancora riempiti di Spirito Santo l'hanno fatto perché sospinti da Dio sempre sospinti dallo Spirito Santo sempre sospinti da Dio a fare la sua volontà è chiaro anche se non erano riempiti di Spirito Santo questo per dimostrarvi con questo voglio dimostrarvi che anche chi non è riempito di Spirito Santo può essere guidato da Dio a compiere le opere nella sua chiesa come lui vuole come Dio ha stabilito l'importante è fare le cose che Dio ha stabilito l'importante è che uno non sia un impostore e non sia un ipocrita capite quello che è importante è che venga annunziata la verità fatta la volontà di Dio ma leggiamo comunque questi passaggi di cui vi ho accennato 1 15 di atti e in quei giorni Pietro levatosi in mezzo ai fratelli il numero delle persone adunate saliva a circa 120 disse fratelli bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù poiché egli era annoverato fra noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministerio costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità ed essendosi precipitato gli si squarciò il ventre e tutte le sue interi ora si spassero e ciò è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio Hakeldama cioè campo di sangue poiché è scritto nel libro dei salmi divenga la sua dimora deserta e non vi sia chi abiti in essa e l'ufficio suo lo prenda un altro bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto fra noi a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli tolto da noi è stato assunto in cielo uno si è fatto testimone con noi della risurrezione di lui e ne presentarono due Giuseppe detto Barsabba il quale era soprannominato giusto e Mattia e pregando dissero tu Signore che conosci i cuori di tutti mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministerio ed apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo e li trassero a sorte e la sorte cadde su Mattia che fu associato agli undici apostoli vedete tutta l'operazione che fu fatta all'interno della chiesa di Dio quando ancora non erano riempiti di spirito santo Pietro si alzò fece un discorso citò le scritture poi scelsero i fratelli prima scelsero quindi manifestarono una certa capacità di discernimento anche quindi vedete questo potevano farlo solamente se una misura di spirito albergava il loro poi pregarono non ne presentarono due dopo pregarono il Dio vedete pregarono il Dio e come potevano pregare se lo spirito non già non albergava di già dentro di loro una misura di spirito non c'era ancora il riempimento ma c'era una misura sicuramente di spirito dentro di loro ed hanno potuto compiere tutte queste opere che sono indicate nella scrittura e le hanno compiute proprio nel momento in cui ancora non erano battezzati con lo spirito perché se fosse stato fondamentale in maniera assoluta che tutte queste cose avvenissero solamente dopo che uno è battezzato con lo spirito non le avrebbero fatte prima capite io voglio farvi capire che non ci sono credenti di serie A e di serie B voglio farvi capire che ognuno si trova nella situazione che Dio gli ha stabilito poi in base a quello che uno ha ricevuto così deve lavorare deve manifestare quello che ha ricevuto se ha ricevuto più potenza che manifesti più potenza ognuno deve manifestare quello che ha ricevuto da Dio quindi ognuno deve lavorare deve servire Dio secondo la chiamata che ha ricevuto da lui è chiaro che con questo io non voglio rallentare la richiesta la preghiera di ricevere la potenza dello spirito sano no perché è utile è utilissimo perché si rende più forti spiritualmente più efficaci nel compiere tutte le opere che riguardano la chiesa la parola l'evangelizzazione qualsiasi cosa capite è molto importante è importantissimo però con questo non vuol dire che chi ancora non l'ha ricevuto è un credente inferiore perché non è assolutamente così solamente che uno ha ricevuto una cosa un altro ne ha ricevuto un'altra capite ognuno di noi ha ricevuto quello che Dio gli ha dato e le scritture vi sto citando appunto le scritture per farvi capire che vedete anche chi non aveva ricevuto la potenza dello Spirito Santo operava per 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 servire il Signore per compiva quelle opere che lo Spirito Santo stesso li chiamava compiere questo questo avveniva e questo io voglio citarvi ma non solo abbiamo anche un altro esempio un altro esempio che voglio citarvi che è quello di Apollo dobbiamo andare adesso in Atti sempre Atti degli Apostoli e leggiamo e leggiamo al capitolo 18 al versetto 24 leggiamo queste parole che riguardano Apollo or un certo giudeo per nome Apollo oriundo d'Alessandria uomo eloquente e potente nelle scritture arrivò ad Efeso egli era era stato ammaestrato nella via del Signore ed essendo fervente di spirito parlava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga ma Priscilla ed Aquila uditolo lo presero secco e gli esposero più appieno la via di Dio poi volendo egli passare in Acaia i fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che l'accogliessero giunto là egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo vedete qui la scrittura parla di questo giudeo di nome Apollo che aveva conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni cosa vuol dire questo ora se noi leggiamo più avanti troviamo la spiegazione anche di questo più avanti al capitolo 19 l'apostolo Paolo trova degli efesini che avevano conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni e dice queste parole or avenne mentre Apollo era corinto che Paolo avendo attraversato la parte alta del paese venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste ed essi a lui non abbiamo neppur sentito dire che ci sia lo Spirito Santo ed egli disse loro di che battesimo siete dunque state battezzati ed essi risposero del battesimo di Giovanni e Paolo disse Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui cioè in Gesù udito questo furono battezzati nel nome del Signor Gesù e dopo che Paolo ebbe loro imposte le mani lo Spirito Santo scese su loro e parlavano in altre lingue e profettizzavano erano in tutto circa dodici uomini vedete quindi anche questi circa dodici uomini avevano conoscenza solo del battesimo di Giovanni e non erano riempiti di Spirito Santo non erano riempiti di Spirito Santo la medesima cosa la dobbiamo considerare di Apollo anche Apollo non era riempito di Spirito Santo però guardate le scritture di Apollo cosa dice cosa dicono dicono oriundo d'Alessandria uomo eloquente cioè era capace a parlare aveva una capacità di parlare particolare capite eloquente vuol dire che riusciva a convincere che riusciva a parlare bene riusciva a convincere coloro che ascoltavano cioè citava delle argomentazioni in una tale maniera che era convincente poi dice potente nelle scritture e quindi conosceva le scritture le conosceva naturalmente qui stiamo parlando delle scritture dei profeti dei salmi e della legge della legge di Mosè perché perché a quell'epoca quando Apollo parlava non ancora ancora non era formato il nuovo il nuovo testamento le epistole e gli scritti del nuovo testamento quindi qui qui è lo potente nelle scritture si intende che conosceva quella parte delle scritture che noi oggi chiamiamo il vecchio patto va bene prima dei Vangeli lui le conosceva e qui dice la scrittura che era potente nelle scritture da considerare che non era ancora riempito di spirito santo considerate questo poi la scrittura dice ancora che egli era stato ammaestrato nella via del Signore ed era fervente di spirito cioè nello spirito lui aveva un fuoco che era acceso dentro di lui era il fuoco dello spirito dell'iddio vivente era acceso il fuoco in lui non era ancora riempito però perché aveva conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni come i dodici discepoli di Efes non era riempito ancora di spirito però aveva tutte queste caratteristiche che lui metteva in atto sempre doni datogli da Dio erano sempre dei doni che gli erano dati da Dio e ancora dice queste cose la scrittura di Apollo parlava e insegnava accuratamente vedete parlava e insegnava in maniera accurata le cose relative a Gesù quindi dimostrava attraverso le scritture faceva dei ragionamenti potenti che parlava correttamente di Gesù attraverso i libri del vecchio patto benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni vedete parlava correttamente di Gesù anche se aveva conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni a tal punto che Priscilla ed Aquila vedete più avanti nel testo c'è scritto ah e poi anche il versetto 26 vedete c'è scritto egli cominciò pure a parlare francamente nella sinagoga quindi non aveva paura non aveva nessuna paura dei giudei perché dimostrava che Gesù era il Messia il Cristo ai giudei e lo faceva anche dentro la sinagoga senza nessuna paura parlava francamente vedete benché gli mancasse ancora una certa parte e anche una certa misura di Spirito Santo quella del riempimento poi Priscilla ed Aquila lo udirono e capirono che mancava nel suo discorso qualcosa e lo portarono via per insegnargli per comunicargli quella parte che ancora gli mancava e questo che riguardava Apollo quindi fratelli avete visto con questo con questo messaggio io con questo messaggio che ho voluto darvi quest'oggi era per farvi capire che senza nulla togliere a quelli battezzati con lo Spirito Santo e a questa promessa grande e gloriosa che Dio ha fatto che tutti noi siamo chiamati continuamente a desiderare chi l'ha ricevuto a mantenere sempre l'unzione sempre accesa senza nulla togliere a questo ma anche a quelli che ancora non sono battezzati con lo Spirito Santo e Dio può dare degli incarichi può dare del lavoro da fare e questo lavoro viene fatto sempre per mezzo dello Spirito Santo cioè dello Spirito Santo che abita nei cuori dei credenti Spirito Santo che inizia ad abitare nel credente nel momento in cui nasce di nuovo questo è importante nel momento in cui si nasce di nuovo viene all'albergare lo Spirito Santo nell'uomo e quello Spirito Santo poi ci guida in ogni cosa il credente viene guidato dallo Spirito Santo a fare quello che Dio vuole che lui faccia non ci sono quindi credenti di serie A e di serie B ma ci sono soltanto credenti che vogliono fare la volontà di Dio e a chi è data un incarico a chi è data una cosa e a chi ne è dato un altro però l'importante è che ognuno di noi faccia quello che Dio gli ha dato di fare e per quanto riguarda il battesimo con lo Spirito Santo tutti sono tenuti a pregare del continuo senza dimenticarlo mai chi ancora non è battezzato di pregare per riceverlo questo è obbligatorio non è facoltativo lo ripeto e chi invece è già riempito di Spirito Santo all'obbligo di mantenere l'unzione viva perché non è detto che quell'unzione ricevuta col riempimento se uno poi non si dedica alla preghiera allo studio a mantenere l'unzione viva dentro di lui non è detto che questa unzione rimanga attiva in lui quindi quindi dopo viene vanificato anche questo riempimento di Spirito quindi vedete c'è tanto lavoro da fare da pregare tutti quanti chiedere a Dio e tutti quanti lavorare per il Signore secondo l'incarico che Dio dà a ciascuno perché non a tutti può essere dato lo stesso compito lo stesso incarico le stesse cose oppure non adesso non a tutti nello stesso momento viene dato un certo incarico quindi a ognuno a ognuno Dio dà quello che lui ha stabilito che può anche cambiare poi per il futuro inizialmente vi ricordo l'Apostolo Paolo era un dottore perché vi ricordo che a capitolo 13 leggiamo queste parole or nella chiesa di Antiochia verano dei profeti e dei dottori Barnaba Simeone chiamato Niger Lucio di Cirene Manna fratello di Latte di Erode il Tetrarca e Saulo e mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano lo Spirito Santo disse mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati quindi lì ci fu la chiamata all'Apostolato di Paolo da parte dello Spirito Santo però prima era dottore Paolo era dottore perché infatti Paolo era sia dottore che apostolo dei gentili quindi siccome qui ebbe la chiamata di apostolo prima era semplicemente soltanto un dottore perché vi sto dicendo questo per farvi capire che l'incarico di oggi potrebbe cambiare per domani cioè non è detto che quello che Dio ci dà oggi possa valere per sempre e Dio poi ci può chiamare a qualcos'altro capite naturalmente sempre di più sempre di più impegnativo non meno impegnativo sempre di più quindi quindi sempre più importante sempre più con una dedicazione maggiore verso la chiesa e verso l'opera l'opera del Signore cioè non è che quello che siamo oggi saremo per sempre c'è chi sta imparando che poi riceverà le chiamate da Dio a suo tempo chi è giovane i giovani questo lo dico soprattutto per i giovani la situazione che è adesso non sarà quella che sarà fra un paio d'anni è chiaro ecco perché adesso bisogna i giovani si devono preparare studiare le scritture pregare fare esperienze con il Signore in preghiera e digiuno e studiare le scritture e poi a suo tempo vedrete che riceverete la chiamata a cui Dio vi chiamerà i ministeri sono cinque i doni sono sono tanti altri ci sono tanti altri doni questo vale sia per gli uomini che per le donne perché il ministerio di profeta viene dato anche alle donne non è che le donne non fanno niente ci sono gli uffici di diacono per le donne e c'è anche il ministerio di profeta e ci sono le assistenze e ci sono tanto c'è tanto lavoro da fare anche per le donne non è che la scrittura alle donne non gli permette di lavorare la scrittura alle donne non gli permette di fare determinate cose perché perché così si possono dedicare a fare meglio quello per cui Dio li ha stabilite avete capito cioè non è che Dio evitando alle donne di predicare la parola vuole vuole che vuole che non facciano niente no è solo perché così si possono dedicare quello a cui loro naturalmente per cui sono state create da Dio possono dedicarsi ad assistere determinate persone in modo particolare donne incinte gli anziani i poveri gli ammalati e tanto altro cose importantissime cose importantissime capite l'assistenza ai poveri tutto quello che c'è da fare perché adesso il fatto che noi non li vediamo in mezzo a noi tutte queste problematiche forse non ci sono in mezzo a noi ma ci dobbiamo pensare perché quando ci saranno non è che abbiamo un po' il tempo di fare chissà che cosa ci dobbiamo già pensare adesso capite a tutte le cose così quando ci troveremo una donna una donna incinta in mezzo a noi magari anche al secondo figlio al terzo figlio dobbiamo aiutarla perché gli altri figli chi li bada io ho avuto bisogno io ho avuto tre figli grazie a Dio e quando accompagnavamo uno a scuola io andavo a lavorare mia moglie accompagnava uno a scuola e c'era bisogno quell'altro che era molto più piccolo che qualcuno lo tenesse perché quando c'era la neve fuori insomma prepararlo in velocità la mattina insomma non era semplice guardate bene che da questa carità da questo amore da queste opere che poi gli altri quelli di fuori vedranno vedranno l'amore in noi il vero amore in noi l'amore di Dio che è in noi e diranno per questo che Dio veramente è in mezzo a noi è per l'amore che avremo gli uni per gli altri quindi se tutti predicano se tutti predicano alla fine non assiste nessuno ecco perché Dio ha cominciato a dividere quando Dio divise i popoli le tribù di Israele disse a una tribù voi non dovete lavorare voi dovete soltanto servire il Signore annunziando e gli altri undici avevano l'obbligo di sovvenire ai bisogni della tribù di Levi capito il Dio aveva già stabilito come fare vedete quindi l'insegnamento dato a una tribù e gli altri dovevano invece lavorare per sovvenire la tribù dei Leviti oggi il Dio ha stabilito che le donne ma non solo le donne perché anche non a tutti gli uomini è dato di insegnare cioè non è che tutti gli uomini insegnano no a quelli soltanto a cui è dato di insegnare da Dio quindi vedete non c'è nessuna discriminazione perché ci sono tutte le donne che non insegnano e una gran parte degli uomini che non possono insegnare capite non è che sono non è che la maggioranza degli uomini insegnano no è una piccola minoranza di uomini che insegnano quindi non c'è nessuna discriminazione solamente che Dio ha fatto la donna e l'uomo in una maniera tale che nella chiesa la donna deve fare determinate cose l'uomo ne deve fare altre capite non c'è nessuna discriminazione non c'è non c'è niente di discriminante in Dio e che Dio ha fatto le cose e le ha fatte per uno scopo capite le ha fatte per uno scopo ha fatto l'uomo per uno scopo e la donna per uno scopo quindi facciamo ognuno di noi deve fare quello per cui Dio ci ha fatti e il secondo i doni che Dio ci dà quindi questo è nella chiesa quello che riguarda diciamo i servitori del Signore quindi abbiamo visto che nella chiesa ognuno di noi deve fare quello per cui è chiamato senza discriminazione per quanto riguarda il battesimo con lo Spirito Santo oppure no e non possiamo dire non si deve assolutamente dire ad esempio ai battisti a quelli della chiesa dei fratelli che loro non credendo nel battesimo con lo Spirito Santo non hanno lo Spirito Santo non è vero non è vero perché se sono nati di nuovo noi dobbiamo accertarci se la persona è nata di nuovo se è nata di nuovo allora se è nata ad acqua e di Spirito se è nata di Spirito quindi lo Spirito Santo abita in loro noi non possiamo permetterci di disprezzare l'opera di Dio perché se noi chiamiamo uno credente lo chiamiamo che non è credente perché non la pensa come noi noi non stiamo disprezzando solo quella persona noi stiamo disprezzando anche il Dio che lo ha rigenerato quindi badate bene non bisogna sbagliare da questo punto di vista dobbiamo essere sicuri se siamo sicuri che quella persona non è neanche credente allora lo possiamo anche dire ma dobbiamo essere sicuri se non siamo sicuri allora noi possiamo dire che quello è sviato è ribelle è un credente ribelle però non possiamo dire che non ha mai creduto perché perché così se invece un giorno ha creduto noi stiamo disprezzando il Dio e questo non lo dobbiamo fare non dobbiamo assolutamente fare quindi l'importante se uno è nato di nuovo ha lo Spirito di Dio dentro di lui questo è importante che noi riconosciamo 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 per non disprezzare nessun fratello poi se ci sono quelli battezzati con lo Spirito Santo gloria a Dio sono riempiti di Spirito però poi devono dimostrare questo loro riempimento questa loro maggiore potenza dello Spirito devono dimostrarlo nelle opere nella parola nella sapienza in tutto capite? se no sono riempiti di Spirito sono uguali a prima sono peggio di uno che magari non è neanche battezzato ancora e allora c'è qualcosa che non va capite? quindi insomma da una parte non bisogna disprezzare nessuno e dall'altra non bisogna neanche sentirsi troppo in alto eh chi ha ricevuto qualcosa da Dio non si deve sentire troppo in alto perché se uno si innalza poi il Dio lo abbassa e questo era il messaggio che questa sera volevo portarvi a Dio sia la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén